L'amata guida Federico III attende fremente l'arrivo del sodale alleato Faustali Tadayev. Un saluto virile e via verso la città giardina. Si inizia con lo scambio di doni vinilici e si passa per il penaurante lancio della monetina nella fontana vuota. L'oppressione del sollazzo giovanile ha da sempre unito l'azione politica dei due tiranni. Questo sbarbatello non tavolerà il pattino per molto tempo ancora. Ma tutto questo primere mette fame. E cosa c'è di meglio di una primica autartica merenda varesina? Federico III e Faustali Tadayev attendono il loro pubblico il 23 gennaio alle cantine comu favarese. Il complesso musicale dei paesi rappresenterà per intero la pancrocopera Federico III e il destino in Fausto. Apriranno le danze i Plankton Data Wave guidati da Faustali Tadayev. Molto pubblico, molto onore. Non mancate! Molto pubblico, molto onore.